Grazie al supporto del Comune, il progetto Policoro della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro allarga ulteriormente la sua offerta, ci sarà uno spazio anche di ascolto all'interno dell'Informa Giovani. L'Informa Giovani si apre due volte al mese per ospitare questa iniziativa perché abbiamo ritenuto che fosse interessante l'iniziativa in sé e cioè la capacità di aumentare le opportunità per i giovani di comprendere come potersi districare nel complicato mondo della ricerca del lavoro, ma dall'altra parte anche lo spirito con il quale questo progetto viene in qualche modo fatto, che ne è l'aspirazione, cioè la dignità dell'uomo, l'importanza del lavoro come momento di scelta non soltanto economica ma anche scelta di vita, quindi è chiaro che c'è un riconoscimento anche valoriale rispetto a questo progetto e quindi l'amministrazione comunale ne è profondamente convinta e apre le proprie porte perché riteniamo che sia buono ma soprattutto che sia un'ispirazione giusta quella che lo sottende. L'amministrazione comunale di Arezzo abbiamo iniziato una collaborazione per cui il progetto Policore, quindi il nostro animatore di comunità Simone Neri sarà presente proprio nello spazio Informa Giovani e darà la possibilità a questo di avere una maggiore e diretta partecipazione nel senso di rendere un punto di riferimento ulteriore rispetto a quello che già esiste presso la chiesa di San Michele dove è la pastorale giovanile e dove già da gennaio scorso il progetto è una realtà concreta.